Momento di attesa in casa Brindisi dopo l'incontro dei giorni scorsi tra i componenti della società biancazzurra. I tifosi attendono di conoscere la programmazione della futura stagione, che passa però prima dalla chiusura contabile di quella virtualmente ancora in vita. Se come più volte dichiarato in queste settimane dal presidente Umberto Vangone, l'obiettivo del Brindisi per il prossimo anno dovrà essere ambizioso, serve dare ora i primi concreti segnali, perché prima di aspetti tecnici, conferme e squadra, serve dare solidità a questo progetto. I tifosi ovviamente hanno ancora in mente le difficoltà, gli scontri e le problematiche di questo primo campionato di Serie D affrontato dalla formazione Brindisina, e quindi attendono segnali certi e concreti di un cambiamento di rotta. Uno riguarda le spettanze di questa stagione, anche questo tema caldo dello scorso inverno, con diversi giocatori che sarebbero in attesa di ricevere il saldo di questo campionato, anche se sembra che qualcuno attenda anche spettanze dei mesi pregressi. Non è infatti escluso che in queste ore alcuni giocatori adriatici possano prendere anche eclatanti ed importanti decisioni a propria tutela su questo fronte. Una situazione in evoluzione che si aggiunge alle avvertenze presentate dall'ex tecnico Livieri, solo una saldata ed una seconda già scaduta che dovrà essere saldata prima dell'inizio della nuova stagione e che comunque porterà ad una penalizzazione nel prossimo campionato della formazione adriatica, in attesa della sentenza del terzo ricorso presentato proprio nei giorni scorsi.